Salve a tutti cari genitori, io sono Simona, sono la referente del Nido Comunale Alvero Verde. Il nostro è un nido a gestione indiretta, affidato al Consorzio Infanzapisa e gestito dalla Cooperativa Sociale Agate. Purtroppo l'emergenza contro il coronavirus ha impedito anche a noi di presentarvi il nostro servizio educativo di persona, essendo ancora chiusi sia i nidi che le scuole. Allora abbiamo pensato di illustrarvi il nostro centro educativo in modo virtuale. Il Nido di Infanzapisa Alvero Verde è situato nel quartiere di Putignano, in via Ximenex, ed ha la possibilità di accogliere 44 fra bambine e bambine. Spero che vi arrivi ugualmente in questo modo la nostra voglia di accoglienza e il desiderio di tornare il prima possibile a conoscervi di persona. Buona visione! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!